Buongiorno ragazzi, benvenuti e benvenuti in un nuovo vlogmas. Sono in palestra, mi sono portata la macchinetta, tutte cose, tra l'altro, sì, questa ferpa sembra enorme, tra l'altro sono più piccolina. Comunque, a parte fa, mi sono scorrata la memoria dietro al computer, ovviamente, a casa. Quindi, niente, per farvi vedere che esco anche da casa mia, tanto o sono in palestra o al supermercato o a casa, cioè non è che, insomma, ho questa vita particolarmente interessante. Siamo agli sgoccioli. Oggi è il 23, ieri non ho vloggato perché veramente non ho fatto nulla, cioè sarei stata apatica, anzi, sono stata apatica tutto il giorno. Mi rodeva particolarmente il culette, così è, cioè sto ancora aspettando che arrivi Fausto e quindi ogni tanto ho questi sbalzi d'umore. Comunque, a parte ciò, ho appena finito la lezione. Pranzo, perché ovviamente io vengo qua per le 11, ma a tempo che faccio la lezione, che torno. Poi oggi c'è un casino perché si vede che magari c'è gente che sta partendo per andare, non lo so, alle case in montagna. Che cacchio ne so, c'è un casino per strada qui a Roma, più del solito, quindi vi ho detto tutto. Cioè, di solito ci metto tipo 35 minuti per arrivare qui. Oggi ci ho messo quasi un'ora. Appunto vado a casa che devo ovviamente iniziare a mettermi in pari con le cose da portare domani a casa di nonna, quindi devo preparare un po' di preparazioni. Poi ieri ho fatto, ho rifatto l'impasto dei biscotti perché non ero soddisfatta con il primo, quindi quelli li abbiamo già mangiati tutti. Spianati i biscotti. E adesso ho fatto un'altra ricetta, cioè o meglio, me la sono fatta dare da Giulia. Perché quelli che fa lei sono proprio buoni, super burrosi per carità, però per una volta, cioè raga, c'è tempo per smaltire poi tutto. Questa è la mia filosofia, però sto continuando ad andare in palestra ovviamente perché se no mi sentirai in colpa. Cioè vorrei farvi vedere che comunque, a parte la ciccezza, cioè il muscoletto sulla gamba c'è, quindi nel senso a qualcosa servirà pure. Oggi mi vedo una faccia strana, non lo so che cos'è. Fatto sta, ok vabbè, adesso direi che vado a casa. Poi comunque capisci che domani è Natale perché, cioè, mi sto facendo il pezzo dalla palestra alla macchina e sento solo odori di cose da mangiare. Cioè ma vi giuro di ogni, ma riesci a distinguerle i palesi, cioè, riesco a capire chi sta facendo la lasagna, chi sta facendo la carne, anche se domani non si mangia la carne, però magari qualcuno si porta avanti. Sento pesce, sento tutto. Tornata a casa, allora, l'altro giorno ho ordinato i poster con le foto di Jong-un da mettere dentro da questi tre quadri. In teoria dovrebbe arrivarmi oggi, quindi spero arrivi perché non vedo l'ora di vedere come stanno e soprattutto se le stampe sono effettivamente venute bene o meno. Prima di tutto devo andarmi a fare la doccia, ovviamente. Così poi posso iniziare a fare i biscotti un'altra volta, cioè ormai proprio io il mattarello, tipo una cosa sola. Poi qui ho già fatto la torta rustica per il 25, vedete queste sono le due paste frolle, l'ho fatta ieri così è stata tutto un giorno intero in frigo. Poi guardate che cosa ho ordinato su Amazon questi, che sono dei mini pirottini per fare le palline con le di tonno e patate che volevo fare. Almeno ognuno ha la sua porzioncina, cioè costano un fottio sti cosi, però Natale viene una volta all'anno, quindi usiamo questa scusa tipo sempre. E poi non mi ero accorta che qui avevano portato i struffoli, cioè sono due giorni che vedo queste cose qua e dico ma che cos'è? Ma che cos'è? Ovviamente è struffoli, quindi abbiamo anche i struffoli, bene. Detto ciò, nananananasi, che sta facendo signora? Lo sa che dopo se avanza tempo dobbiamo fare il bagnetto? Lei vorrebbe farlo il bagnetto, vero? Detto ciò, adesso prima di farmi la doccia, sapete cosa faccio molto spesso? Accendo ovviamente la tv, vado su YouTube e mi cerco le esibizioni dei BTS, come vedete. Ce ne sono giusto un pochino. Mi guardo i balletti, in realtà mi piace. Allora no, alcuni li so tutti, tipo Boy With Love, Dynamite, Butter. A tratti quella di Idol, quella di Not Today, Fake Love e Blood, Sweat and Tears e Black Swan. Però quelle sono un po' più complicate, Dynamite è una cavolata la coreo e anche vabbè quella di Butter. Ah ovviamente per Mission to Dance che è tipo il balletto più facile della storia. Qual è la mia esibizione preferita di Dynamite? Quella dove hanno ricreato il set dei Grammy. Io dico come stava bene John Green otto mesi fa, non è come adesso. Cioè qui era proprio grosso, ma ve lo faccio vedere. Non so se mangiavate più, se si allenava di più, fatto sta che in quarantena stava da Dio. Cioè venitemi a dire che qua non era grosso, bello pomposo. Guardate pure la faccia, guardate le gambe, c'è. Qua sono troppo secchi, ok? Che dovete saltellare, ballare, però a noi ci piace la sostanza, la sostanza. Vorrei che si vedesse, se non ci fosse quest'albero si vedrebbe il tramonto. È arancionissimo, la macchinetta non lo cattura, vabbè. Comunque mi sto per mettere a fare i biscotti. Quindi prendiamo i panetti qua. Cioè non sembra, ma sono tipo giga. Io ho la mano grande, ma sono grandi. E poi, allora, io l'altro giorno ho usato queste di formine, quindi queste le riprendo. Anche se qui sopra ne ho di carine. Vedete, c'erano queste che vi fanno tutti i pezzettini e almeno poi dopo per decorarli è facile. Eccoci qua, stanno venendo benissimo. Nell'info box vi lascio la ricetta della pasta pro la che ho seguito perché è proprio perfetta. Nel mentre sto guardando i miei video a spiegazione di Spider-Man No Way Home. E come vedete sto facendo diverse infornate. Questi qua adesso devono andare. E il problema è che questi sono giganti. E questi qua invece rosa, gli stampini, sono molto più piccolini. Quindi sono effettivamente più carini. Quindi sto cercando un po' di mixare. Però vorrei fare più questi piccoli. Sì, questi mi sono un po' cotti troppo. Però vedete è solo la base. Qui ho messo tutti quelli con le gocce di cioccolato. Qua sto facendo quelli con la cannella. Ovviamente, vabbè, questo è un pezzo di impasto che mi ha avanzato. Quindi si è un po' sbruciacchiato perché l'ho steso troppo sottile. Però gli altri non sono sbruciacchiati. Semplicemente, ovviamente l'impasto è più scuro essendo la cannella. Però sono venuti troppo carini. Nel mentre mi sono fatta anche un tè caldo. Non so come voi prendiate il tè, ma io lo prendo con gli inglesi, con il latte. Da quando ho visto questa cosa lo faccio sempre. Vabbè, ormai sono anni. Scusate, mi ero scordata di aver comprato questi. Cioè, non ce li mettiamo, tipo. Non so quanto ci possono stare con la cannella. Però... Ora, sto facendo una pausa. E sto cercando di chiamare mio padre. Ma praticamente lui è una di quelle persone che se ha il telefono o non ce l'ha, è la stessa cosa. Cioè, se io avessi un'emergenza di qualsiasi tipo, sarebbe l'ultima persona che chiamerei probabilmente. Perché non risponde mai. Gli volevo dire di prendere lo zucchero a velo, perché ovviamente mi serve, me lo sono scordata. Mi serve per fare la glassa, per decorare i biscotti. Provo a chiamare mia madre. È andata al centro di Roma, insieme a mia sorella, appunto, il suo fidanzato. Quindi ho tutta la casa per me. Allegria! Ieri sera ci siamo visti il Grinch. E stasera ci vediamo Masterchef, tutti insieme sul divano, appassionatamente. E quindi, sì, adesso provo a chiamarla e sentiamo. Ultimamente è il vlog chiamata. Le chiamerò vlog chiamata. E là? Senti, ma prima di tornare non è che passate al supermercato, per caso? Sì, a Toti. Un attimo. Ah, ok. Allora, poi mi prendi lo zucchero a velo? Siamo pieni, laddì. No, quello mi serviva per fare l'impasto. Mi serve per fare i biscotti. Ma non mi, a che giorni. Ah, zucchero a velo solo? Sì, due pacchi prendine. Ma hai acceso il termosifone, no? Sì. Ah, sono accesi? Eh, no, dico. Non ho capito. Accenditi, è a 18 e 4. Sì, sì, lo so, lo so. Vabbè, prendi lo zucchero a velo, grazie, ciao. Solo zucchero a velo? Sì, sì. Ciao, ciao. Io non ho acceso il termosifone. Io non sono un'adulta, lo capite? Che ha detto 18 e 4. Un'eterna bambina. Un'eterna bambina. Mai sì? Tutto ciò? Ah, oddio. Ma non mi dire che hai ci sei messa qui col pancione. Col pancione ciccione. Stai da fare tutti la sninna insieme? Che c'è qui l'angolo pensione? Questa è sola coperta. Guarda, stai bene, sì? Ok. Ok, ho finito la mia mega infornata qua. Adesso, ovviamente, si dovranno un po', come si dice neanche mia nel termine, freddare. E poi li potrò decorare. Gli ultimi sono venuti meglio perché non li ho bruciati. Diciamo che era una vita che non facevo biscotti, quindi alcuni un po' così, alcuni un po' colà. Però sono carini, piccolini, così vanno giù, che è una bellezza. Infatti penso di averne mangiati già una decina. Comunque, appunto appena mi portano tutto, li decoro. Avevo comprato anche questo. Il colorante rosso, così li decoro sia con il rosso, sia con la glassa poi normale bianca. Non la voglio fare con l'albume, ma la faccio soltanto con acqua e zucchero a velo, mi sa. Nel mentre mi sto portando avanti anche a fare le zucchine grigliate, per i tortini, le roselline, quelle di pasta sfoglia che devo fare domani. E poi c'è una certa anche basta, in teoria sono le sette quasi. Che c'era stasera per cena? Petto di pollo con le verdure. Non ho le verdure, però ho il petto di tacchino. Poi mi avete chiesto se quest'anno farò il video dei regali. In realtà vi dico già di no perché sono sicura che non riceverò nessun regalo. O se mi daranno qualcosa saranno le solite bustarelle con i soldini, bla bla bla. Non ci sarà questa gran cosa da farvi vedere, perché va bene così, insomma, non è quello l'importante. E poi, ragazzi, rullo di tamburi perché ho preso una decisione. Visto che ho saltato alcuni vlogmas questi giorni, ho deciso che allungherò questa serie di video anche dopo Natale. Quindi, insomma, non saranno più vlogmas, se li troverei un altro nome, se avete qualche consiglio fatemelo sapere. E quindi ci faremo insieme anche i giorni per arrivare al Capodanno. Quindi l'ultimo video lo vedrete il primo di gennaio, che sarà il video poi di Capodanno. Che non farò niente di che, eh. Cioè, già ve lo dico, mi metto le mani avanti. Poi vabbè, la cosa del Covid non è che aiuti molto, non è che possiamo fare di sacchi. Sì, almeno faremo 10, 9, 8, 7, 7, 4, 3, 2, 1, insieme. E quindi, insomma, spero vi faccia piacere questa cosa perché ho letto un po' di commenti dove c'era scritto Noi, la mi dispiace che finisca questa serie di video perché mi ha tenuto tanta compagnia, che mi piacciono tanto. Quindi ho detto, va bene, allunghiamoli, tanto siamo in ballo, balliamo. Mi rode solo il ciulina che non sia arrivato il mio pacchetto di foto sì, con i poster. Però c'è che volevo stanotte mettere, stanotte, stasera mettermi a mettere i poster, invece niente. Dico, magari non è che mi hanno lasciato il pacchetto in giardino, ma credo di no, a parte non si vede niente. Mi stavo facendo le sopracciglie, soprattutto quando è un po' di tempo che magari non faccio post, foto su Instagram. Poi mi scordo di fare questo tipo di cose, però non posso permettermelo perché io ho un'ipercrescita sia dei capelli che delle unghie che dei peli. In generale, e quindi dovevo correre ai ripari, più che altro perché se lo faccio poi domani divento tutta rossa, quindi è meglio farlo prima. Tra l'altro vi do un piccolo aggiornamento, non richiesto però io ve lo dico, perché a seguito tutta la questione operazione laser agli occhi. Ci sono dei giorni in cui ho più secchezza di altri, tipo sono due giorni che ogni tanto quando chiudo e riapro l'occhio vedo tipo una sorta di pallina nera, tant'è che l'altro giorno pensavo che fosse una cosa svolazzante, quindi continuavo a fare così e a cercare di afferrare questa cosa, ma non c'era niente. Sì, ogni tanto diciamo ci sono questi avvenimenti un po' ambigui, tipo l'altro giorno mi sembrava di avere una patina sopra questo l'occhio e non si toglieva, cioè io continuavo a mettere anche ad esempio le goccine queste qua che metto sempre, anzi fatemele rimettere, che ovviamente aiutano se avete l'occhio un pochino secco. Però ecco, in linea generale va tutto bene, la visita di controllo ce l'ho dopo sei mesi dall'operazione, quindi ovviamente manca ancora un po'. Neanche mi ricordo quanto tempo è passato e quando l'ho fatta in realtà. Andiamo a controllare perché tanto avevo fatto il video, non ho scritto la data precisa però mi dà 28 ottobre, quindi sono quasi due mesi. Vabbè, ci sta ragazzi, ci sta. Quanto è strano vedermi con i capelli lunghi, fa stranissimo. Mentirei se vi dicessi che non mi mancano, avere i capelli corti ha un'altra comodità. Diciamo così, se io prima riuscivo a lavarmi i capelli una volta a settimana, perché comunque ci vuole un botto con l'extension, tra asciugatura, piega eccetera, sarebbe stato sicuramente più facile. Più che altro se avessi avuto un tipo di capello di base mio più gestibile, sarebbe stato più facile tenere anche l'extension, perché almeno non avrei dovuto poi piastrare e acconciare e tutte cose, no? Perché un conto se li asciughi e vengono già tutti lisci, dici ok, sto un po' di più ad asciugarli, però non devo stare lì ad acconciarli e fare. E a volte magari hai bisogno di lavarli ed essere già pronta subito. E quindi era falloso in quel senso, cioè dovevo andare in giro con sta parte sempre un po' sporchina che urto. E quindi sì, solo per quello. Però mi mancano molto, mi mancano veramente tanto. Infatti sto valutando se rimetterli o meno a gennaio, però staremo a vedere. Chi vivrà, vedrà. Con lo stuzzicadente intorno ai piercing questi qua tendono ad accumulare un po' di pelle. Ogni tanto faccio la mia seduta di pulizia profonda. È una palla perché è una palla, non vi faccio vedere i dettagli e neanche cosa esce fuori, ma insomma immagino poi. Ovviamente è tutta pelle secca. Vanno, ripeto, benissimo. Poi ho trovato questa ragazza che me li fa, che è bravissima. Mi trovo proprio bene con lei, sia a livello umano, perché poi io sono una persona molto particolare, anche se magari non si direbbe. No, non lo so, non lo so. Fatto sto che se una persona, lo so, magari è sbagliato come approccio, però se una persona non mi piace a livello personale poi non riesco ad affidarmici a livello anche professionale. Però penso sia una cosa abbastanza frequente per tutti. Questo qui il date è quello che a distanza anche di un bel po' di mesi continua a darmi più fastidio rispetto agli altri. Cioè paradossalmente tipo il conch che ha questo qua dentro non mi dà nessun fastidio, non vedo l'ora di poterlo cambiare. Questo in realtà deve passare un bel po' per poterlo cambiare e mettere l'anellino. Però ecco, per il resto sono molto contenta di averli fatti questi piercing, soprattutto queste composizioni un po' più particolari. Dall'aria stiamo arrivando, abbiamo trovato un casino, quindi ci stiamo prendendo la pizza e veniamo a casa. Quindi insomma sono cotta. Stiamo arrivando e ci abbiamo una cena, ok? Ciao. E vede voi che vi potete mangiare la pizza. Io no, io non ho la gioia dell'amore in questa vita. Metteteci in mezzo qualcos'altro. Neanche la gioia del cibo perché Dio insomma non mi ha dato questa gioia. Però raga, nel senso, proveremo gioia in altre cose. Giusto. Tutto ciò Aysi stamattina non ha mangiato, quindi sto continuando a sentire il suono di sottofondo della sua pancia. È presente quando sentite quel brontorio bruh 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 bruh. E quindi sì, adesso li vado a far mangiare anche perché non mi ero accorta che si fossero fatte le otto e dieci. Allegria ragazzi. Mi aspettavo qualcosa di più flizzante. E stiamo giunti anche alla fine di questo vlogmas di oggi, spero vi abbia tenuto compagnia come il resto degli altri video, ci vediamo domani che finalmente è la vigilia, quindi sì vi anticipo già che ci sarà tanta cucina. Non vedrete pacchetti di regalo o cose da incartare perché già sono state fatte da altre persone, non è tra i miei compiti diciamo così, però sicuramente ecco abbiamo un po' di cose da fare, alla fine non ho fatto neanche il bagnotto ai cagnolini perché alla fine sono tornati dalla passeggiata al centro, il bagno è stato occupato per tempo in memore e quindi sì non c'è stato modo, però magari domani ci riuscirò, chi lo sa. Lo scopriremo solo nel video di domani, quindi detto ciao vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!